Ma ora che ho trovato in te una guida e un messaggero insieme, salva mi tu, abbi più da di me. Vedi come tutto per i mortali e insidiosi risposto al rischio, tanto la prosperità quanto la sguardo. Chi è fuori dai mali bisogna che pensi alle disgrazie altrui e quando è felice allora più che mai deve vegliare sulla propria vita e su quella degli altri. Perché non vada in Romina senza che gli se ne accorga. L'11 ottobre è tale 18 alle 22. In classico non è soccorso. Con laboratori, letture, spettacoli, parole eterne. Per Riccardo, nostro compagno, ora è nella malattia che è tutto capovolto. Ora tocca a te dare una mano, non vuol tardi per non vedere, vieni! Per Riccardo, tu dovresti dirci solo. 18 ottobre al bellico piano, dalle 18 alle 20. Merci con Riccardo. Merci con Riccardo. Merci con Riccardo. Merda! Merci con Riccardo! Riccardo compierà 18 anni e lotta contro una mielodisplasiata diversi mesi. Classic Open Night è un'occasione concreta per riaffermare che gli stiamo vicini e vorremmo aiutare lui e la sua famiglia. Inquadrando il QR code è possibile versare un'offerta libera per sostenere Riccardo da oggi fino al 12 ottobre 2024. L'11 ottobre ci vediamo alle ore 18 in provincia per il momento iniziale dell'evento, che poi proseguirà nei locali del liceo Pellico Peano, entrando da via Monte Zovetto. Alle ore 19.30 il liceo offre una cena romana, a cui sarà possibile partecipare versando un contributo minimo di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i minori di 14 anni. E poi la serata proseguirà alle ore 20.30 con rappresentazioni, letture, giochi e laboratori vari. Durante la serata sarà possibile anche versare un'offerta importanti nei locali della scuola. È possibile partecipare anche solo ai momenti della serata. Venite numerosi e generosi!